Con il tempo di 2 minuti 52 secondi e 25 centesimi, Omar Magliona è stato il più veloce al volante dell'osella PA2000 Honda del team Samo Competition, nell'unica salita disputata al 45esimo Alpe del Nevegal. Terzo round del campionato italiano velocità montagna, andato in scena tra nebbia, condizioni da bagnato e pioggia, a Belluno, domenica 19 maggio. Per l'otto volte campione italiano portacolori della scuderia siciliana CST Sport, si tratta in pratica del tris sui 5,5 km del tracciato Veneto dopo i successi riportati nel 2007 e nel 2018. Una prova sportiva di grande agonismo e tenacia, visto che, oltre ad aver dovuto affrontare condizioni insidiosissime, il driver sardo ha dovuto sostenere l'estenuante attesa di ben 12 ore prima di poter prendere il via a causa delle continue sospensioni della gara, per lo più dovute appunto alle precarie condizioni di visibilità. Non riesco a contenere la soddisfazione, dichiara Magliona. Abbiamo atteso a lungo, è stata dura mantenere la concentrazione, ma quando arrivano questi risultati si dimentica in un attimo tutta la stanchezza di una lunga giornata. Decisive le ultime decisioni prese insieme allo stesso Enzo Osella e il lavoro di Samo Competition, oltre che le scelte di mescola Avon decisamente efficaci.